Il protagonista di questa vignetta decide di spostarsi sull'altro lato del marciapiede. Sull'altro marciapiede solo. Ah, sull'altro marciapiede, colpa mia. Per far capire alla ragazza con un piccolissimo gesto di non avere cattive intenzioni. Una follia, qualcun penserebbe. Ma molti ragazzi e uomini, consapevoli dell'ansia e stress che possono provare molte donne tornando a casa la sera da sole, decidono di compiere delle azioni pratiche per poter far sentire le donne stesse più tranquille e serene nel loro tragitto verso casa. Ti sei mai ritrovato sullo stesso percorso di una nonna ragazza? Hai fatto qualcosa per manifestare la tua presenza e per far capire di non essere una potenziale minaccia? Cosa hai fatto? Allora, poi leggiamo anche i commenti. Allora, voglio fare una premessa di buon senso. Io, che sia sera o mattina, penso che se una persona è di corsa, è in uno stato che possa dare preoccupazione. Se io sono di corsa perché chiude il supermercato, non lo so. E sto correndo. Che ci sia una ragazza o un ragazzo davanti, cerco di mantenere una distanza tale da non spaventare la persona. Questa cosa è totalmente ragionevole. Ora, ora, che adesso dobbiamo spiccare un mondo in cui l'uomo debba far capire di non essere una potenziale minaccia, come se non bastasse il fatto di essere un essere umano, questo è... non lo so. E infatti, quasi risposto la pagina Homo Sapiens risponde, ormai stiamo fomentando una psicosi collettiva, non c'è altra spiegazione. Ci sono molti messaggi di critica, in realtà. Ma ce ne sono anche di... Tipo, Annabella scrive... Facendo questa vignetta mi è istintivamente parso eccessivo che il ragazzo decidesse di cambiare marciapiede. Poi ho pensato a quanto mi solleverebbe se lo facessero, ed ho anche realizzato di averlo fatto più volte io stessa. Sono una donna, mi ho avvertito l'ansia della donna che camminando davanti a me sentiva i miei passi e mi sono spostata per tranquillizzare. Per me si ha... cioè... E' che alcune di queste cose sono sulla soglia del buon senso. Cioè è ovvio che tu non vuoi far paura all'altra persona. Però allo stesso tempo sta vignetta e agghiacciante. Se solo il mio esistere ti fa paura, è un problema tuo. Io non posso fare lo psichiatra di una persona... Il livello di conoscenza che ho è intravederla per un secondo sul marciapiede insieme a me. A che livello di lettura del cervello dobbiamo arrivare? Giovanni, io sono... Giovanni dice... La ragione è Eugenio, ma sapendo come siamo messi ad oggi, giuro che mi è capitato di farlo. Anche a me, ma io... Ma non è che uno che lo fa, uno dice ah sei suonato, alimenti la psicosi collettiva. No. Però che il va de me cum sia farlo. Ma anche perché... Un conto è fare sensibilizzazione contro la violenza. Un conto è fare la sensibilizzazione per prevenire la paura di un secondo quando vedi qualcuno. Ma a tutti sarà successo. Ma stiamo parlando di niente. Noi non possiamo sapere cosa pensa una persona per la strada. Non possiamo generalizzare in questo modo. Soprattutto se, come dicevano, se la persona per la strada la sente minacciata, sia lei a cambiare marciapiede. Se hai paura di me, spostati. Cosa vuoi che ti dica? Cosa vuoi che io pensi di fare paura alla gente solo perché cammino per la strada senza fare nulla? O penso che comunque massaggerò lo stare bene di una persona? Le darò un pochino di sollievo levandomi dai coglioni. Ma stiamo, scherziamo, spero. Mi manifesti su essere terrorizzata dalla vita attraversando la strada e andando dall'altra parte. Ma io sono totalmente senza parole. Ma che cazzo? Siamo veramente alla pretesa che l'esperienza della vita di ciascuno, di tutti i giorni, diciamo così, sia scevra di qualunque tipo di turbamento. Anche se questi turbamenti sono immotivati o comunque non hanno nessuna ragione contestuale per essere esperiti. Quindi è come se le persone di questa ondata, che spero sia molto rumorosa ma molto poco numerosa, pretendessero come un diritto il non soffrire, il non soffrire mai. A tal punto che anche ciò che li fa soffrire, senza che ci sia nessuna ragione per soffrire, deve comunque essere loro risparmiato. È evidente che parliamo di persone molto spostate nello spettro sinistro, ma davvero sinistro, della politica. Ed è evidente che, come tipico di quella parte, il rapporto con la realtà è totalmente di carattere desiderante. La realtà deve corrispondere ai nostri desideri. Si finisce sempre lì. Speriamo, io spero che non sia numerosa, ma mi dà molto fastidio questo modo di pensare. Perché ovviamente è un vittimismo perenne, è un vittimismo perenne, sai come lo potremmo definire? Un vittimismo creativo. Perché ciò di cui sono vittima, o per meglio dire, l'insieme delle cose di cui posso dirmi vittima, si rimpingua in continuazione. Appena una delle cose passa di moda, non è più forte, non ha più nessun potere, ne posso inventare un'altra. E così via. Vittimismo creativo. Eh, ma ci sono persone che sono state molestate per la strada. Questo non fa di me che cammino per la strada un molestatore. Ok? Sarebbe interessante che la persona che cammina davanti a me si girasse e dicesse tu sei un molestatore. Sarebbe carino, lì veramente si chiama l'avvocato. Sul discorso che fai tu sul pretendere di non essere mai spaventati, mai turbati da niente. Tra l'altro, anche ammesso che ci sia il beneficio, che ci possa essere il beneficio immediato del caso singolo, poi la soglia della paura si corregge. I disclaimer, le imbottiture, le imbottiture per gli spigoli da mettere alla vita per non triggerare nessuno, arriveranno sempre dopo e dovranno sempre inseguire. Perché se io comincio a mettermi sul lato del marzapiede e diventa la norma, a parte il fatto che poi la volta che qualcuno non lo fa, magari panico assoluto, cioè diventa mille volte più grave. Cioè se cominciamo ad evitare comportamenti normali, perché i comportamenti normali suscitano paura, la paura poi verrà suscitata da qualcos'altro. Perché poi magari quello lì si mette sul lato della strada, ma nel farlo mi ha guardato per due secondi più dell'altro. Oppure magari l'ha fatto, ma l'ha fatto perché vuole farmi credere di non essere una minaccia e mi gira intorno. E infatti con questi atteggiamenti che cosa succede? Cioè se dovesse diventare regola, una cosa di questo genere, cosa succede? Che l'area della paura si espande sempre di più. È una vittoria della paura. Anziché analizzare ciò di cui si ha paura e domandarsi quando il contesto possa giustificare avere paura e quando no, si decide di disinnescare tutto ciò che ci fa paura, anche quello che non è razionale. E così stiamo facendo vincere la paura anziché cercare di combatterla. Qui parliamo molto spesso di persone che hanno paura anche dei fantasmi, anziché cercare di riconoscere dove parliamo di fantasmi e dove eventualmente di reali minacce, cerchiamo di vivere un'esistenza in cui nulla possa mai tangerci e quindi viviamo un'esistenza perseguitati dai fantasmi. Un'esistenza sui guschi d'uovo. Certo, è autodistruttiva questa mentalità, perché per chi pretende, queste persone che abbiamo descritto, che pretendono una vita senza frizioni, una vita senza dolore mai, nessuno vuole il dolore per forza, una vita senza nessun tipo di turbamento, ovviamente sono persone che si condannano al turbamento perenne, infatti sono paranoici o paranoiche che non fanno altro che vedere minacce dappertutto. Questo non significa, lo ripeto, perché sia chiaro, non significa che minacce non possano esistere, ci mancherebbe altro, ma vedere minacce ovunque non è prudente, non è un modo intelligente di equipaggiarsi contro le minacce, è essere assolutamente disadattati rispetto alle realtà di tutti i giorni. Quindi sono due cose ben diverse. Mi è venuta... Molto interessante, però, questo era un post molto interessante, secondo me. Michele Coutugno che dice, ma se poi c'è un'altra ragazza sull'altro marciapiene che faccio? Devi andare sotto le macchine che passano, tanto sei un maschio, senti, meglio far diminuire la quantità di maschi. Mi è venuta però a questo punto la curiosità, perché non l'avevo letto tutta la mia, di guardare l'altro post, perché c'è un altro, questa è la seconda vignetta, quindi... Mi aspetto un'altra vignetta con questo stile. Ho paura, non so neanche se voglio vedere... Tornando a casa a piedi la sera, vorrei sentirmi più così, cioè fischiettando con gli occhiali da sole, tra l'altro, che è una scelta coraggiosa per la sera, invece che così... Chi no? Chi no? Magari uno vive in un quartiere di merda, anch'io, tutti quanti, se viviamo in un quartiere di merda, avremmo stare più tranquilli, anziché no. Chi è che non è d'accordo? Certo. No, ma poi, cioè... Fermo restando che ci sono certamente alcuni comportamenti, alcune situazioni più rischiose per le donne la sera per strada. E magari ci saranno altre... Esistono i contesti. Altre più di... Esistono i contesti. Un'altra delle cose... Si entra nell'amaro. Un'altra delle cose tipiche di queste pretese è proprio la pretesa che non esista contestualità. E qui c'è la fatidica domanda, ma io la lascio cadere, perché sembra incredibile, ma si entra nell'indicibile. Esistono abbigliamenti, comportamenti, atteggiamenti più o meno adatti a differenti contesti? Non posso neanche proseguire il discorso. Per dire che cosa sono diventate le ovvietà. Sì, è... Ho giustificato la violenza? Certo che no. Ma esiste un modo saggio di leggere i contesti? È un modo avventato? In società tra gli esseri umani? È il discorso del girare in un quartiere brutto... E la vittima ha ragione in quanto vittima? L'essere vittima ti dà ragione? Può una vittima avere commesso errori? È il discorso del girare... Ciao, qui siamo proprio andati oltre. ...del girare in un quartiere malfamato di una grande città con un Rolex al polso. Se te lo rubano ovviamente non è colpa tua, però nessuno ti consiglierebbe di fare. Diehard numero tre. Quello con Samuel L. Jackson. Bruce Willis, Simon ordina e lo mettono a Harlem con il cartello Io odio gli N-Word. Come mai è un atteggiamento sbagliato? Come mai quello è di fatto un tentativo di suicidarsi dal parte... Ovviamente costretto dal cattivo del film da parte del personaggio di Bruce Willis? Come mai Samuel L. Jackson fa il buon samaritano esce e cerca di salvarlo? Non è giusto che il personaggio di Bruce Willis venga aggredito. E allora lui deve poter andare in giro così. Certo è offensivo, ma non dovrebbe comunque nessuno permettersi di aggredirlo. Eppure noi non andiamo ad Harlem... Non so se le cose siano cambiate. È l'Harlem degli anni 90. Ma la realtà deve piegarsi agli ideali. A tutte le obiezioni fantocce. La mentalità totalitaria dei compagni è sempre la stessa. La realtà deve piegarsi agli ideali. E non gli ideali rettificarsi sulla base della realtà. La realtà significa anche semplicemente i contesti. E poi si lavora sui contesti. Perché se il mondo è ingiusto non vuol dire farcelo andare bene. Non è che se sono pragmatico amo l'ingiustizia, Dio di una Madonna. È semplicemente che cerco di agire sull'agibile e nel frattempo, finché il mondo non è cambiato seguendo il mio desiderio, ne riconosco le caratteristiche, Dio di un Dio. Non significa che amo il male e amo l'ingiustizia, Dio di un Gesù. Grazie Marco Merzi. Grazie mille e complimenti per la barba. Il problema di tutti questi discorsi è che altra gente che li fa sono dei sessisti di merda e quindi se tu provi solo a nominare parole simili allora sei come gli altri. Il sessismo si vede a 360 gradi, anzi a 180 gradi. Quindi di sessismo qua ne stiamo vedendo parecchio. Ah, io sono tutto. Io sono d'accordo. Dottor Rockfellix scrive, scusami, lo metto a schermo per chi vedrà dopo. Se le strade sono dissestate auspichi di riparare le strade e non di avere un fuoristrada. Certo. Il punto è che se la strada è dissestata davanti a me e io, facciamo finta, ho una macchina molto fragile il cui fondo sicuramente si danneggerà in attesa che la strada venga riparata non vado dritto pensando è giusto che la strada sia riparata quindi il fondo della mia macchina non si rovinerà. Cioè una Lamborghini, una Ferrari il fondo della mia macchina si distruggerà e il mondo è ingiusto. Però l'avevo visto che la strada era dissestata. Certo che voglio che la strada venga riparata non c'è dubbio però che fuoristrada passerà e la Ferrari no. E nel frattempo se io ho la Ferrari che non è male come macchina magari avuto la strada dissestata. E ti dirò di più Non è che se vado dritto con la Ferrari sulla strada dissestata sto combattendo l'ingiustizia. Vezzo e ti dirò di più le strade aggiustate le strade funzionanti non dissestate non ha senso che abbiano un cartello che ti indichi che sono perfettamente funzionanti e non devi temere. Così abbiamo chiuso così abbiamo chiuso il senso. Giustissimo. E di fronte e qui faccio l'amarezza che tutti noi condividiamo ma non pensiamo solo al sessismo Dio santo pensiamo a tutto lo schifo che la vita ci mette di fronte ci saranno contesti nei quali a furia di ripetere esperienze di merde giungeremo la amara conclusione di comprare il fuoristrada metaforico della situazione. Non sto dicendo che sia giusto non sto dicendo che sia bello sto dicendo che sono belle le strade lisce e non le strade dissestate non parlo solo di sessismo immaginatelo a 360 gradi molte volte nella nostra vita giungiamo pensate pensate a quelli che vanno all'estero i cervelli in fuga cervelli in fuga sono persone magari di buonissimo livello di studio eccetera eccetera che vorrebbero che l'Italia fosse il posto ideale per dare loro gli stipendi che sognano e che meritano eccetera eccetera ma prendono la decisione molto dura a livello familiare di prendere e andare nella Svizzera nel nord Europa negli Stati Uniti o quello che è è quello è un fuoristrada di volta in volta ognuno poi fa anche i conti suoi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti